Tensioni nel pomeriggio di venerdì 30 luglio in un'abitazione in zona San Bortolo a Vicenza. Al 113 arriva la chiamata concitata di un uomo che avvisa gli operatori della centrale che il padre lo sta minacciando con una pistola, obbligandolo ad uscire di casa. Gli agenti delle volante si portano immediatamente sul posto, riescono ad entrare nell'abitazione e trovano l'anziano seduto sul letto con un'arma in mano. Da lì parte una lunga trattativa che alla fine porta a disarmare l'uomo e a mettere in sicurezza l'abitazione. Allontanato dalla stanza, gli agenti hanno visionato l'arma, verificando che si trattava di una replica a salve ancora con il tappo rosso. L'arma è stata acquisita dagli agenti. All'origine della lite familiare sembra che siano antichi dissapori tra padre e figlio. Al vaglio invece la posizione di entrambe le parti.